State tranquilli per me, non preoccupatevi perché non sono morto, non sono morto. Musica Giuseppe Larimate e Nicodemo sono arrivati in tempo. Dopo sei ore, mi hanno tirato giù. Musica Solo quel colpo di lancia mi ha accostato, mi ha fatto male. Musica E a lungo dovuto curare la ferita. Musica Sono stato in un luogo sicuro, lontano da sguardi indiscreti. Musica Ho tagliato i capelli, ho indossato vesti semplici da ortolano. Musica Ma adesso sto bene, vedete come voi mangio il pesce. Musica E bevo al posto calice il pasto misto della rosa e della croce. Musica 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 Negli altri ho parlato comparabili, ma con voi potrò parlare chiaro, secondo la luce che ciascuno di voi è pronto a ricevere, voi che conoscete gli insegnamenti del maestro di giustizia, che li avete studiati nel libro della chiarezza. Saprete adesso che sono pronto per andare giù nel lagarti, nei loro quadrati, nei loro triangoli, dove sono le anime dei grandi arconti, da cui prese origine la nostra stirpe, anime che non sono risolte, io ridurrò il loro potere di un terzo, questo io vi dico, io ridurrò il loro potere di un terzo, ma il resto dovrete farlo voi. Ma il resto dovrete farlo voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.